Premessa. Questa è l'ultima puntata di questa stagione, per un po' sospendo deserto desolato per mancanza di tempo, sto ricominciando la scuola e quindi alcune serie per mancanza di tempo le sospendo, ma le continuerò più avanti non temete. Rimane Undead Legacy, Astroniar, e alcune nuove che ho intenzione di portare. Buona visione. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.